Ciao a tutti amici e bentornati sul canale di raffia la grande ragazzi oggi andremo a fare dei buonissimi pancake sofficissimi e leggerissimi una piuma partiamo subito con la nostra ricetta per fare questi semplicissimi pancake ci vogliono 400 grammi di farina 00 40 grammi di zucchero semolato 400 grammi di latte parzialmente scremato a temperatura ambiente un uovo intero 2 grammi di sale qui dentro c'è 9 grammi di lievito vanigliato più una bossina di vanillina allora è semplicissimo dobbiamo inserire tutto dentro e il nostro macchinario deve fare il tutto allora adesso abbiamo mescolato tutti i nostri ingredienti come vedete è venuto bello cremoso adesso ci spostiamo sul piano cottura e incominciamo a formare i nostri panchaini ora come vedete su un pentolino ho messo un po di burro che adesso si sta sciogliendo lo facciamo sciogliere e lo facciamo scorrere per tutto il padellino e poi possiamo inserire il nostro impasto ragazzi una volta sciolto il nostro burro con un fazzoletto di carta togliamo tutto l'eccesso con un mestolino prendiamo l'impasto lo riempiamo e incominciamo a inserire nel nostro pentolino lo distribuiamo bene bene facendo un movimento destra sinistra sinistra destra e poi aspettiamo che tutto si cuocia ragazzi dopo qualche minuto prendiamo il nostro pancake e lo giriamo ed eccolo qua grazie abbiamo fatto i nostri pancake sofficissimi guardate che bontà cioccolata bianca e cioccolata nera l'abbiamo fatto guardate guardate quanta cioccolata un monte buonissimo golosone beh spero tanto che anche questa ricetta vi sia piaciuta mi raccomando fatevi perché sono buonissime e sofficissimi e ci vediamo ad una mia prossima ricetta ciao a tutti